Sarà una notte di San Silvestro sold out e piena di eventi in Umbria. La quasi totalità di alberghi, ristoranti, bed and breakfast e affini hanno chiuso le prenotazioni oramai da giorni, se non da settimane e linea generica si profila un notevole incremento di turismo rispetto al 2018, dove i numeri erano già in crescita sia relazionati all'anno precedente. Boom di prenotazione Perugia ma anche nei due principali poli attrattivi natalizi della regione, ovvero sulle varie location che costeggiano il lago Trasimeno, dove la novità dell'albero di Natale sull'acqua è stata indubbiamente efficace, l'altro polo attrattivo è ovviamente Gubbio con le strutture ricettive pressoché complete in tutto il comprensorio per festeggiare il nuovo anno sotto il Montingino, dove risplende l'albero di Natale più grande del mondo. Per quanto riguarda gli spettacoli di Capodanno, partendo proprio da Gubbio, alle ore 18 ci sarà il videomapping 3D che illuminerà la facciata di Palazzo dei Consoli, mentre il 2019 si concluderà con il concerto di fine anno in Piazza Grande a partire dalle ore 23 e con un'ordinanza, peraltro, il sindaco Stirati ha imposto ai cittadini il divieto di somministrazione e vendita di alcolici, oltre alla tutela delle persone e degli animali dai possibili danni derivanti dall'utilizzo di fuochi artificiali. Il non rispetto dell'ordinanza comporterà l'applicazione di una sanzione pecuniaria che varia dai 25 ai 500 euro e tali restrizioni sono riprese con modalità e cifre diversificate ma similari da tutti i principali comuni umbri. A Foligno, ad esempio, il sindaco Zuccarini ha aggiunto l'aggravante dell'arresto se il lancio di fuochi d'artificio avverrà il luogo dove è presente un assemblamento di persone. A Castione del Lago, per tornare agli eventi, ci sarà il cenone di Capodanno in piazza con brindisi di mezzanotte e prima accensione del 2020 per l'albero dei record sull'acqua che ha fatto registrare sinora oltre 34.000 ingressi. A Perugia il centro storico si colorerà con musicisti e spettacoli, tutto a ingresso libero e itineranti nelle vie e nelle piazze con festa in maschera veneziana fino a tardanotte con la città caratterizzata da musica elettronica, rock, ritmi brasiliani africani, melodie balcaniche e anche la pizzica pugliese. A Foligno la macchina organizzativa del Piper Festival propone il barzellettiere Raul Maiuoli, il live dei Gibson Brothers seguito da un DJ set sino a notte fonda. Ad Assisi invece, in piazza del comune, musica funky e pop dance con la Loris Blonde Band e con DJ Pretz per uno show che si terrà proprio accanto al luminoso bosco incantato ispirato al terzo paradiso di Michelangelo Pistoletto che riconfigura il simbolo dell'infinito nel segno della responsabilità e rende ancora più suggestiva la piazza principale della città. A Spoleto in arrivo la banda I Re, street band composta da 12 elementi che accoglierà il 2020 a ritmo di samba, reggae e funk. Poi, allo scoccare della mezzanotte, spettacolo pirotecnico dalla rocca Albornoz. A Trevi in piazza Garibaldi, DJ set della cantante e performer di Foligno, Paola Maggiuri, che ha spopolato nelle classifiche estive con il singolo Festival Bar. Il Capodanno di Norcia vedrà invece in piazza San Benedetto la Shine Orchestra. In concerto a Cascia sarà una festa all'insegna della natura e del sound di DJ Ralph, mentre a Città di Castello l'appuntamento è in piazza Matteotti dalle 22.30 con brindisi e musica dal vivo assieme all'orchestra di Andrea Bianchini. Spostandoci nella zona sud della regione, a Terni, eventi live multiple in arrivo in Piazza della Repubblica, Piazza Tacito, Piazza della Pace e Piazza del Popolo, mentre ad Orvieto è in pieno corso d'opera la 27esima edizione di Umbria Jazz Winter, in programma fino al primo gennaio e che il 31 sera animerà la città a suon di ritmi blues, gospel e funky, anche se le prime ore del 2020 saranno suonate dal trombettista Paolo Fresu, in concerto con il suo Devil Quartet presso la sala 400 di Palazzo del Popolo.